ma ci rifacciamo eh? come? ci rifacciamo? ci rifacciamo i spaghetti alla brusera? no perché siamo dell'idea che Jim Kerr sta mettendo su pancia perché sta mangiando troppi spaghetti alla brusera in Italia a tutti i ripiczi sono tutti i 30 minuti a tutti i ritorno la città sono tutti i soldati e i bici sono tutti i raggiungi perciò là si accionavano a mezzanotte ma è unico Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.